Amici di Investire.biz, buongiorno a tutti e bentornati a Turbo Daily, l'appuntamento con le strategie operative messe in campo con i Turbo Certificate di BEMPE e Paribas. Il titolo che abbiamo scelto oggi per investire è un titolo che ieri ha presentato i conti trimestrali e uno dei grandi nomi del risparmio gestito in Italia, stiamo parlando ovviamente di Azimut. I conti di Azimut al 30 settembre hanno evidenziato un andamento decisamente positivo del business con i ricavi e il rendito operativo cresciuti a due cifre nei primi nove mesi dell'anno. I primi hanno messo a segno un più 12% mentre i secondi un più 17% andando a testare rispettivamente a 969 da 415 milioni di euro. Più cauta la crescita dell'utile evento salito del 4% a 302 milioni di euro. Le masse GCD si attestano a 54,3 miliardi di euro e la società ha fatto sapere alla luce proprio dei conti registrati nei primi nove mesi di aver confermato i target 2022. Ma andiamo a vedere il grafico di Azimut che come del resto diversi titoli del comparto azionario italiano a metà ottobre è registrato un netto miglioramento dell'impostazione grafica. Vediamo che è stato in grado di superare tutte le principali medie mobili da ultima ieri quella 200 giorni fino ad arrivare a sopra quota 19 euro nella seduta di ieri e oggi si sta confermando su questi livelli. Vogliamo continuare, crediamo che il titolo abbia ancora margine per salire nonostante un livello di iper venduto insomma siamo l'indice di forza relativa e di in quota 80 quasi 85 punti. Crediamo che possa ancora salire quindi intendiamo aprire una posizione rialzista da 19 euro. Il target lo vogliamo fissare a 19,95 euro quindi immediatamente sotto la soglia psicologica dei 20 euro e lo stop loss a 17,9 euro quindi in maniera pressoché speculare. Si tratta di un'operazione che dovrebbe portarci un rendimento del 5% tondo e per mettere in campo questa operazione utilizzeremo appunto un turbo certificate di BNP Paribas. Andiamo sul sito investimenti.bnpparibas.it. Selezioniamo Turbo e Mini Future dal menu certificati a leva qui il comparto azionario e poi selezioniamo Azimut. Abbiamo già scelto questo prodotto che presenta codice AISIN NLBNPIT 1IRE0. La leva è fissata a 4,89. Lo strike a 15 euro quindi 2,9 euro al di sotto del nostro livello di stop loss e attualmente è sottostante a distanza da uno strike oltre 20 punti percentuali. Si tratta di un prodotto con una scadenza fissata al 16 giugno 2023. Per investire su questo titolo ci richiamo sulla nostra piattaforma di investimento dove compreremo 250 pezzi quindi per un controvalore di circa 1.000 euro e quindi un'esposizione a sottostante di poco meno di 5.000 euro. Clicchiamo il tasto buy, entriamo in posizione e andiamo a riassumere questa operazione. Si tratta di un'operazione rialzista sulle azioni Azimut, l'ingresso è fissato a 19 euro, lo stop loss a 17,9 euro, il target 19,95 euro. Tendiamo in campo questa operazione con il turbo certificate di BNP Paribas caratterizzato dal codice AISIN NLBNPIT 1IRE0 e dato che oggi ci troviamo nell'ultima seduta della settimana andiamo a ricapitolare quelle che sono state le operazioni messe in campo nel corso di questa ottava. Abbiamo messo su tre investimenti rimassisti, uno sul nostro Fuzzimib, uno sul titolo CNC Industrial, l'altro su Unicredit e due investimenti rialzisti, quello di oggi su Azimut e un altro sulle azioni Renault. Anche per oggi quindi da Turbo Daily è tutto, io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.